Mi occupo da tempo di amministrazione pubblica, organizzazione e servizi. Il mio impegno migliore e più determinato sarà rivolto a riorganizzare gli assetti e i servizi della macchina comunale. Sostituzione del vecchio sito internet con un portale di servizi integrati, adozione dello sportello virtuale, diffusione della polifunzionalità all'interno degli uffici del comune, rappresentano gli obiettivi da conseguire per migliorare il rapporto tra cittadino e comune. Dovremo basare l'ente su una organizzazione fluida che possa raccogliere al meglio le sfide della cittadinanza digitale e della contemporaneità.